Sì, sul disastro ambientale dipende, perché sull'avvelenamento delle acque, che è l'altra accusa molto più pesante, la prescrizione è molto in là. Quindi se verrà riconosciuto l'avvelenamento delle acque, la prescrizione non sarà un problema. Se invece sarà riconosciuto solo il disastro ambientale, quello potrà esserlo, perché in un paio d'anni si va in prescrizione. Quindi dipende da cosa decideranno i giudici, chiaramente.